Sul tema chiaramente delle infrastrutture, sulla sicurezza delle infrastrutture che dopo i fatti di Genova hanno determinato, è inutile dirlo, una preoccupazione sociale come potete immaginare, abbiamo deciso di convocare per i primi di settembre, il primo che ha sentito è stato il collega del 5 Stelle Riccardo Mercante, insieme abbiamo lavorato molto bene in questi anni, anche insieme al Vicepresidente Emilio Diampieri, per cercare di far luce su quello che è lo Stato, chiaramente dei ponti e delle infrastrutture, dei spazi pubblici, quelle che sono infrastrutture di collegamento, è chiaro che le infrastrutture sono un tema che riguarda il Paese, perché non sono le strade dell'Abruzzo frequentate solo dagli abruzzesi, ma sono frequentate da milioni di italiani, da milioni di cittadini della comunità europea e su questo dovrà fare luce al governo sulla manutenzione, sulla stato delle convenzioni che gli ho contestato, ho criticato, sapete qual è la mia formazione politica, bisogna capire qual è lo stato delle manutenzioni, lo stato che incoverzano questi ponti, queste infrastrutture, girano foto su Facebook, sui social network che gettano nella preoccupazione e nello sconforto tantissimi cittadini, ma in primis che frequento quelle strade, tra cui quella di Genova l'ho frequentata lo scorso anno con i miei bambini per andare all'acquario di Genova, bisogna fare luce e dare di queste risultanze che ci saranno in questa commissione più possibile comunicazione a tutta la popolazione per renderle dotto di quello che è lo stato dell'arte.